Come posso dimenticare il nostro primo incontro? Sembravi felice in quella trattoria maleodorante dove una cameriera obesa serviva buone cioccolate calde. Il caffè faceva schifo, ma me l'avevano pagato e io lo sorseggiavo piano, combattendo l'impulso di vuotare la tazzina in un vaso di gerani. Ma la cioccolata è buona, sì? Rispondesti di sì, che del cioccolato non si poteva parlare male. A meno una cosa che fosse buona in quel locale. La pasta con i broccoli, ad esempio, faceva letteralmente vomitare. Io ti guardavo, ma mi sembrava che tu non riuscissi a mettere a fuoco le immagini. Forse avevi la congiuntivite, però cercavi di nasconderlo. Lo nascondevi male, tanto che scambiaste i miei occhi marrone per colore verde smeraldo. O forse ti eri fatta. Ma che c'era in quella cioccolata calda? E' Fermo ad aspettare un convoglio alla fermata di via Vernieri, alle otto e quarantuno, quando già non ci speravo più, nella stazione vergognosamente degradata, Cigolante arrivò un mezzo. Ma non andai di fretta per non perdere la De Filippe e la TV. A fine maggio mi sono sposato. Carmelina, due settimane fa, ha dato alla luce il nostro primo figlio. Ho cambiato tre lavori, ma sono sempre precario. Sono ritornato a Salerno il mese scorso. Sono entrato nella trattoria sempre più maleodorante e tu eri là a bere cioccolata calda corretta con la grappa dopo esserti fatto un piattino di trippe. Sembravi felice, forse persa nei tuoi pensieri. Ehi là, ciao, ti ricordi di me? Sono Gennarino, quagliarulo, ma guardavi oltre me. C'era una macchia di umidità color verde smeraldo alla parete. Forse fissavi quella. No, questa è l'impressione che ho avuto.